Buongiorno, benvenuti a questa Rissegna Stampa di oggi, 17 luglio. La cosa che più mi ha impressionato sui giornali oggi è io immagino i commenti di quelli che ti dicono ma tu sei un liberale, come fai a stare con Salvini? Io ovviamente non sto con Salvini se non quando dice delle cose che io considero interessanti, non è che sto a prescindere. Ma la cosa che mi fa impazzire, i liberali dicono ah, quelli che poi non sono liberali accusano i liberali di non stare in maniera originaria. E oggi io vedo queste porca puttana ma mi viene veramente il sangue al cervello di commentatori del centrodestra che non alzano i ditini e dicono scusatemi signori ma avete sentito che cosa ha detto la signora aristocratica, ministro della difesa e della famiglia che è diventata dopo un accordo della minchia europeo è diventato presidente della Commissione Europea avete sentito il discorso di questa Ursula? Vabbè, la prima cosa l'ha detta e siete così tutti contenti che le persone si devono salvare in mare come se ci fosse qualcuno che pensa che le persone in mare non si debbano salvare forse è diverso andarle a prendere con un taxi in mare e portarle in Italia e poi signora Ursula non farle andare nel resto di Europa ma questo forse Ursula non lo capisce ma poi mi sento dire della signora Ursula che vogliamo una commissione con tante donne e se non ci sono le donne ci pensa lei il presidente della Commissione Donna forse capisci che la cosa importante è che ci siano persone competenti non queste minchiate per le quali spero che lei sia competente certamente lo era Margaret Thatcher ma certamente non lo era la signora May non c'entra un cazzo il genere per una persona liberale sulla efficienza di un'istituzione sono molto contento se ci sono delle donne efficienti sono molto scontento se uomini o donne o gay o nicolini saranno non efficienti non è che ci vuole un genio a capirlo però la sinistra a cui non dovrebbe partecipare Ursula questa retorica del sessismo la porta ovunque e Ursula ovviamente la rivendica alla Commissione Europea la signora aristocratica tedesca che poi faceva il ministro della difesa capirai un po' in Germania la terza cosa che dice è l'ambientalismo mi viene in sangue al cervello a pensare che ormai la Germania è diventata quella roba là cioè questa vuole la carbon tax proviene dall'unico paese dal mondo che ancora ha non so quale percentuale elevatissima di energia elettrica prodotta dal suo carbone e ci vengono le rompe i coglioni a tutta Europa noi e ci fa la lezioncina la ministra popolare tedesca io sarei abbastanza contento della ministra popolare che è per l'industrializzazione dell'Europa non che la lezioncina al gretinismo questa è un'altra grande bella posizione diciamo di destra no direi che è molto di sinistra il salario minimo voi amici liberali che pensate che io non sia liberale perché sono un po' vicino a Salvini non vi scandalizzate che una sua dison liberale o popolare mi proponga il salario minimo una roba che va bene per i dibattiti televisivi e per gli incontri ma neanche con Landini perché anche Landini sa che è una minchiata il salario minimo che è una follia il salario minimo che la può dire qualche vecchio bacuniano degli anni 70 ma che oggi ovviamente è soltanto propaganda elettorale e poi scusatemi voi che ci avete raccontato oggi ce lo spiega Cerasa chi se ne frega dei numeri l'amico Cerasa caro amico mio hai ragione chi se ne frega dei numeri chi vince anche per un voto ha vinto ma non ci avevate spiegato che popolari socialisti liberali governavano adesso l'Europa come un sol uomo e che in realtà sovranisti non servivano più a nulla mi sembra che questa signora abbia basato tutto il suo minchia di discorso proprio nella paura dei sovranisti che gli hanno fatto un mazzo così è stata eletta per nove voti nessun presidente della commissione è stata eletta con così pochi voti e ha dovuto raccattare altra cosa straordinaria i voti del Movimento 5 Stelle per essere eletta se non ci fossero stati i 14 voti del Movimento 5 Stelle la signora non sarebbe stata eletta quindi gli fa schifo la destra mentre invece gli piacciono quelli degli UFO delle scie chimiche del Novax appunto del salario minimo beh io la trovo una cosa straordinaria questa è la presidente della commissione europea che ci farà divertire non sarà embriaca come Juncker ma sicuramente è una che ci va a divertire tra l'altro se ne va via dalla commissione europea e questa è l'unica notizia importante che ci ricorda oggi il Corriere della Sera nei suoi retroscena questo signor Selmaier che era il grande uomo forte l'eminenza grigio dell'Unione Europea non si passava se non da lui per tutti i dossier che contavano gli stessi commissari passavano da lui beh insomma questo signore il potente segretario generale viene fatto fuori e sapete perché? perché l'accordo non è soltanto presidente della commissione europea tedesca ma che il potente uomo della macchina della commissione europea deve essere un francese quindi sostituiranno secondo il retroscena del Corriere della Sera un francese al posto del tedesco che faceva la macchina quindi tolgono Juncker che è un francofono e gli mettono dentro una tedesca tolgono il segretario generale che era un tedesco e gli mettono un francese e poi se del cuore qua parla ai sovranisti l'Italia e la controballa invece di pensare all'Italia stiamo pensando al fatto che Salvini fa Moscopoli no? Moscopoli un'altra balla incredibile l'altro giorno ho parlato con un signore che si occupa di petrolio da anni diciamo che l'ha guidata alcune aziende del petrolio dice ragazzi ma erano sei cialtroni al bar ma di che stavano parlando potevano anche avere cattiva fede ma non esisteva quell'affare eppure esiste per tutti i giornali italiani che dicono Salvini deve venire in Parlamento a rispondere ma a rispondere di che? certo poteva dire prima che lui non scaricava Savoini e che conosceva benissimo Savoini e lì ha fatto un errore clamoroso Salvini Savoini è uno che lavorava con me faceva noi siamo contro le sanzioni nei confronti della Russia Savoini è andato oltre se quello che sento delle intercettazioni rispetto a quello che immaginavo basta chiusa io non ho preso una lira un rublo Savoini non è ancora voglio dire l'uomo della politica estera italiana basta la chiudi lì insomma ma io non riesco a capire di che cosa devo andare a parlare certo aver negato fino ad oggi è piuttosto divertente anche perché siamo in un paese in un mondo per cui il numero due del governo francese questo De Rugui come dice Montefiori molto divertente oggi sul Corriere della Sera che ha il cognome d'aristocratico ma non lo è ma si comporta d'aristocratico quando era presidente dell'assemblea francese del Parlamento francese beh insomma faceva una bella vita Aragoste Champagne tant'è che il giornale che lo ha beccato con questa tavola imbandita con l'Aragoste lui ha dovuto dire io sono allergico ai crostacei sto deficiente viviamo in un mondo nel quale come dice giustamente Montefiori un'Aragoste magari costa meno di una bistecca bella grossa al sangue però non la puoi mangiare in Francia non puoi prendere lo Champagne perché anche se prende lo Champagne sei un ricco signore della casta complimenti continuiamo così perché poi il passo dopo è l'ipocrisia appunto dei miliardari che girano in Tesla ma comunque lasciamola perdere sta cosa si dimette perché spende spande si prende il fond d'oro poi sapete che cos'era era un fondo a 500 euro molto caro perché tu il fondo non compri a 50 euro a 40 euro e lui ha speso 500 euro del fondo con i soldi dei contribuenti immaginate un po' voi quanto in realtà sia importante questo per la politica estera francese insomma ogni mondo ha le sue come possiamo dire sgradevolezze dopo diciamo questi due temi fondamentali ma quello fondamentale è chiaramente l'asse come ha detto bene la Lega Macron Merkel Renzi Movimento 5 Stelle per reggere il presidente della Commissione Europea l'altra grande questione di oggi è Borsellino all'antimafia nel 1984 l'8 maggio va all'antimafia oggi quella roba è desecretata e dice io mi stupisco molto che la mattina questi mi bloccano mi blindano la vita e mi fanno andare con la macchina blindata poi la sera siccome non ci sono le macchine blindate io vado a casa da solo con la mia macchinetta insomma libero non libero la mattina di andare come mi pare libero la sera di essere ucciso perché non c'ho la blindata ovviamente Borsellino che era un mito un vero mito insieme a Falcone due miti che facevano schifo al 90% dell'opinione degli intellettuali che oggi scrivono sui giornali faceva schifo a tutti gli intellettuali ai politici dell'epoca che non fossero diciamo alcuni socialisti che poi hanno fatto schifo a tutti gli altri che faceva schifo a Orlando il sindaco Orlando Cascio il sindaco di Palermo che faceva schifo a tutte le persone che pensavano per bene Borsellino e Falcone e per di più Borsellino era anche del Miss quindi faceva ancora più schifo a tutti quanti Borsellino diceva delle cose sacrosante che oggi vengono assolutamente considerate incredibili ma che all'epoca vennero tenite in un cassetto in pochissima considerazione tra l'altro più che la scorta per la quale poi lui morì nel 92 la vera cosa per cui Borsellino si lamentava è che non erano in grado di lavorare per poter concludere il maxiprocesso un solo computer e manco funzionava gli avevano dato di seconda mano come tutti sapete poi con Falcone dovettero andare all'asinara sono andato a vederla quella straordinaria carzupola dell'asinara dove furono rinchiusi per poter fare il processo il grande processo in tutta sicurezza cosa ci racconta questa roba di Borsellino e Falcone due grandissimi magistrati controcorrente dell'epoca che erano garantisti che erano di destra Borsellino che lottavano contro tutti contro lo Stato e lottavano davvero contro la mafia e lottavano contro la mafia non a chiacchiere non come faceva Montante della Confindustria non come fanno le grandi associazioni che oggi si ispirano all'antimafia lavoravano seriamente dalla mattina alla sera rischiando la vita che poi hanno perso quindi lo squarcio che si vede da quelle intercettazioni è semplicemente quella di un grande uomo che lottava contro una mafia che all'epoca esisteva davvero tant'è che nessuno li difendeva dalla mafia oggi vi voglio leggere questa frase sui sindaci Appendino e Raggi io non so Appendino ma Raggi un disastro che neanche potete avere idea beh insomma chi vive a Roma e tra l'altro mi è divertito perché ieri ero con ieri ero era fantastica con ero da un notaio che che tutto sommato diceva le stesse cose che dice il portavoce del Movimento 5 Stelle cioè Travaglio Raggi e Appendino in tre anni hanno retto l'urto del sistema politico mediatico affaristico e talora anche giudiziario che ha tentato in ogni modo di sabotare e spesso non ci è riuscito cioè loro le due sindache sono state sabotate e spesso ci sono riuscite da un sistema politico mediatico affaristico e talora anche giudiziario ma è una cosa fantastica cioè due eroine che combattono ma avete visto cos'è Roma eroine ma avete visto che cacchio è la spazzatura di Roma cos'è ma voi dite ma questa roba qui non poteva risolverla l'ha peggiorata non volevamo lì Einstein ma almeno qualcuno che avesse la presunzione di non cambiare cinque amministratori delegati cinque assessori dodici dirigenti di non avere una idea cioè già è un casino governare una città ma ci metti a raggi cosa ci fai Sallusti favoloso l'ultima questione di oggi chi tifa per l'orso che è l'orso come sapete del Trentino tutti contenti che è scappato dalla gabbia dove l'avevano finalmente rinchiuso è esattamente come chi tifa per gli immigrati vive in questo attico al di sopra e al di sotto di ogni possibile contaminazione con quello che per lui può essere sgradevole o come nell'orso pericoloso direi che tutto parto finalmente oggi spero domani di riuscire a fare una rassegna e stampa dall'estero da dove per 40 giorni farò un piccolo giro del mondo e di cui vi darò conto sulla mia sito nicolaporo.it ciao ciao